Saint Germain, il più grande spettacolo della galassia, di James McConnell, 2 settembre 2023. Sono Saint Germain, vengo per essere con voi in questo momento, in questi tempi continui di grande cambiamento, perché desidero apportare un cambiamento di cui avete parlato nella discussione precedente, una correzione, quando avete detto che questo è il più grande spettacolo della Terra. Non è solo sulla Terra o nella Terra, è nell'intera galassia. È il più grande spettacolo in questa galassia, perché tanti sono venuti a guardare questo spettacolo, a farne parte, compresi tutti voi che siete venuti qui e ne state facendo parte. Non state solo guardando da lontano, ma ogni singolo pensiero che avete, ogni singolo pensiero che esce nella mente universale della coscienza, innalza la coscienza o la abbassa, qualsiasi cosa inviate, ritorna, ritorna a tutta la coscienza collettiva dell'uomo. Quindi sappiate che con ogni vostro pensiero state creando la vita davanti a voi, la vita per voi stessi individualmente e la vita come coscienza collettiva insieme, insieme come un tutt'uno. Vi muovete insieme come una cosa sola, mai separati, perché non siete mai stati separati, non siete mai stati separati dalla coscienza cristica e dalla sorgente universale. Non siete mai stati separati, solo nella vostra mente avete pensato di essere separati e tutta la programmazione che avete avuto nel corso delle innumerevoli vite in cui siete stati qui, ha creato quell'idea di separazione. Ma nemmeno una volta è stata reale. Sappiatelo quindi, mentre continuate a muovervi attraverso questo grande spettacolo sulla Terra e nella galassia. Sappiate che state influenzando ogni singolo momento mentre andate avanti. Quindi, mentre osservate tutto ciò che sta accadendo, mentre prendete coscienza di tutte le funzioni esterne di questo piano, sappiate dentro di voi che fa sempre parte del grande piano universale che è in atto da migliaia e migliaia di anni qui su questo pianeta. E state davvero giungendo alla fine di questa parte del piano. Sappiate che il piano continua sempre, non avrà mai una fine, solo questa parte del piano prima o poi finirà. Quindi, ovunque ci sia una fine, c'è un nuovo inizio di un'altra fase. E voi state entrando a questo punto in un'altra grande fase di questo piano. E a causa del grande risveglio che sta avvenendo in tutto il pianeta, in tutte le aree del pianeta, in tutte le persone del pianeta, anche se non sono ancora consapevoli di essere risvegliate. Molti cominciano a porsi delle domande, proprio come voi vi siete interrogati all'inizio di questa vita e anche nella vita precedente, quando vi siete chiesti. Perché sono qui? Che cos'è tutto questo? Cosa posso fare per cambiare? Quando iniziate a porre queste domande, ricevete delle risposte. E così come voi avete ricevuto risposte, anche coloro che ora stanno ponendo queste domande riceveranno risposte e saranno condotti verso altri, come voi, che saranno pronti. Come parte della vostra missione sarete pronti a rispondere a queste domande, a rispondere alla chiamata. Proprio come avete risposto alla chiamata, molto, molto tempo fa, al grande conclave, per far parte di questa espressione. Proprio come allora avete risposto alla chiamata, sarete pronti a rispondere alla chiamata anche adesso. Perché questo è ciò che siete, ognuno di voi. Tutti coloro che risuonano non solo a queste parole, parole verbali, ma anche alle parole scritte sulla carta stampata. Coloro che risuonano a queste parole sono pronti a rispondere ancora una volta alla chiamata. La chiamata che ha attraversato l'intera galassia. Perché coloro che vengono con le loro navi e nelle loro diverse forme e colori sono venuti per essere parte di questa grande espressione, di questo grande risveglio, qui nella galassia e certamente qui sulla Terra. Quelli che vengono dall'alto e quelli che vengono dal basso si riuniranno tutti sulla superficie di questo pianeta e si uniranno a tutti voi quando l'energia, quando la vibrazione della frequenza si sarà sufficientemente innalzata. E tutti risponderanno alla chiamata. Sono Saint Germain e vi lascio ora in pace, amore e unità. E che tutti voi siate pronti, pronti davvero a rispondere alla chiamata. Traduzione e voce Marina